ok mi senti Murat sì mi sento ok mi senti allora eh siamo qua siamo oggi al Pedro al centro sociale per parlare di Turchia sostanzialmente cioè concentrarci sulle eh ultime proteste che sono avvenute e che Murat ci spiegherà eh perfettamente credo eh ci speriamo ovviamente Murat e quindi vi do due informazioni tecniche e cioè faremo la prima parte in italiano con Murat che ci spiega ehm adesso delle cose che andrà a dirci e poi ci sarà eh Aras che ci spiegherà o ci farà un focus sui movimenti LGBT della Turchia degli da lì anche storicamente una eh e sulle ultime proteste ok eh Murat vado vado subito a farti la prima domanda diciamo che che ci siamo preparati insieme ehm ti chiedo di raccontarci un po' in generale l'inizio delle proteste e le le violenze subite dai manifestanti arresti e la qual è la situazione attuale degli arresti e quali sono state le eh proteste le manifestazioni che ci sono state in altre città oltre a Istanbul parlaci anche di Istanbul ovviamente però insomma magari quella è una cosa che ehm è la cosa più mainstream quella che ci è arrivata anche un po' di più se puoi dirci anche nelle altre città cosa si sta muovendo grazie certo vabbè tutto inizia vabbè ciao a tutte e tutti prima di tutto grazie per l'occasione e nonostante tutte queste mille difficoltà ed è bello vedere un po' di gente lì dal vivo e tutto inizia il primo giorno del duemila e ventuno e il Presidente Repubblica utilizzando una legge esistente e decide di nominare il nuovo rettore dell'Università di Boasici che si trova a Istanbul una università molto prestigiosa molto molto vecchia e abbastanza progressista quindi un un posto strategico tra virgolette a livello politico e giusto per fare un 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 aprino una piccola parentesi che potrebbe essere utile per chi non è addetto al lavoro in Turchia purtroppo grazie a una legge introdotto introdotta nel 1981 durante la dittuttura militare il Presidente Repubblica era fino al 2017 quasi l'unica persona a avere l'ultima parola nella nomina dei nuovi rettori e dico quasi perché è vero che c'erano delle elezioni interne in ogni università facoltative quindi le università avrebbero potuto anche non fare le elezioni interne per decidere appunto per eleggere un nuovo rettore parlo ma erano comunque permesse tra virgolette quindi una minima simbolica però simbolica autonomia da questo punto di vista le università le hanno sempre avute l'hanno sempre avuta e tuttavia i risultati delle elezioni interne non erano vincolanti il senato universitario raccoglieva le candidature e si eleggevano i rettori il rettore si eleggeva e poi il nome si mandava ad Ancara si segnalava il nome del vincitore ad Ancara e dove il consiglio dell'istruzione superiore è un'altra realtà costituita dal dai golpisti del 1980 e analizzava questo questo nome con anche altri che avevano partecipato alle elezioni e esprimeva il la preferenza finale al presidente repubblica quindi c'era una sorta di filtraggio un filtro tra le elezioni interne dell'università e l'ultima parola che era del presidente repubblica ma comunque l'ultima parola appunto era sempre del presidente repubblica quindi altro che il sistema democratico e questo consiglio dell'istruzione superiore aveva anche dei membri nominati dal capo dello stato maggiore oppure dal ministro delle dell'istruzione quindi profili anche politicamente molto radicali a volte e nel 2016 poco prima del fallito colpo di stato e il partito al governo ha proposto nel parlamento un cambiamento legislativo che avrebbe permesso il presidente repubblica di essere assolutamente l'unica voce l'unica l'unico punto a decidere il il i rettori il parlamento ha respinto soprattutto le opposizioni si sono lamentate ha respinto questa proposta cosa è successo sotto lo stato d'emergenza un anno dopo nel 2017 e con un decreto di legge e il cambiamento legislativo ha avvenuto quindi è una proposta respinta dal parlamento con la scusa dello stato d'emergenza attraverso un decreto di legge e è stato è stato è stato introdotto quindi il presidente repubblica è diventato appunto l'ultima voce a decidere l'unica voce anzi decidere il chi sarà il rettore di ogni università in turchia ci sono più di 130 università fate voi quanto in realtà forte a sto punto il potere del presidente repubblica inoltre nel 2017 c'è stato un referendum la turchia è passata in un sistema presidenziale molto radicale quindi ancora un'altra volta una serie di poteri si concentravano sulla figura del presidente repubblica che è l'uomo unico no che conta che decide tutto e cosa succede nelle mesi di novembre del duemila diciamo del duemila venti quindi qualche mese fa anche se lo stato d'emergenza non c'era più quindi un decreto emesso in in quel periodo poteva essere annullato ma non è stato annullato era diventata già legge nel mese di novembre del duemila e venti dentro a questa università l'università di boasi c'è istambul dovevano svolgersi le elezioni regolari perché eh il rettore precedente aveva finito il suo incarico e molto stranamente per la prima volta l'istituto il consiglio dell'istruzione superiore ha deciso di mettere degli annunci sui giornali per raccogliere le candidature del nuovo rettore quindi come se si assumesse una persona un manager in un'azienda no in più ricordiamoci con da come appena detto c'è sempre il presidente repubblica che decide in realtà è una una situazione molto ambigua e molto strana ma comunque dentro l'università girava la voce c'erano delle lamentele e aveva una paura che le elezioni non non sarebbero servite proprio a stavo stavolta a niente in effetti arriviamo al mese di gennaio il primo gennaio il presidente repubblica decide di nominare Melich Poulou come il nuovo rettore dell'università di Boasici che è un totalmente outsider non lavorava in quell'università e non ha mai lavorato come professore neanche passato ha solo fatto il dottorato è molto schierato politicamente è iscritto al partito al governo è uno dei fondatori del cd di uno dei circoli del partito nell'elezione del 2009 se non mi sbaglio amministrative si era candidato non è stato eletto nel 2015 ha provato a diventare parlamentare sempre presso il partito al governo non ce l'ha fatta comunque da più di dieci anni ha una sua posizione ha una sua identità partitica quindi molto discutibile a questa sua particolarità per diventare per uno che vuole diventare rettore e quindi il professore anche gli studenti hanno iniziato a lamentarsi e hanno fatto la prima manifestazione pochi giorni dopo la decisione chiedendo le dimissioni del rettore e appena fuori dai cancelli del campus meridionale diciamo di questa università che è un'università grande a diversi campus in una certa zona di istanbul e la polizia ha risposto in una maniera molto violenta lacrimogene munizione di plastica calpestare gli studenti calci pugni picchiarli con i caschi scudi manganelli eccetera e la polizia ha preso un sacco di studenti in detenzione provvisoria quindi ormai ci trovavamo in una situazione in cui i professori e gli studenti non chiedevano soltanto le dimissioni del rettore ma protestavano anche contro la violenza della polizia contemporaneamente e nei giorni successivi si svolgevano nuovi presidi nuove manifestazioni anche fuori dal campus dell'università quindi in diversi quartieri della città la polizia rispondeva nella stessa maniera contemporaneamente partiva un linciaggio mediatico e un linciaggio politico lanciato dal governo quindi gli studenti sui giornali ma anche davanti alle telecamere da parte del presidente repubblica sono stati definiti come dei terroristi collaboratori delle organizzazioni terroristiche vandali saccheggiatori e poi persone aggressive che creano tafferugli eccetera nella realtà dei fatti ovviamente le cose non sono andate proprio come raccontavano loro e in diversi presidi gli studenti sono stati racchiusi dentro del campo sono stati accerchiati la polizia quando ha scattato il coprifuoco e li ha caricati mentre invece non prima del coprifuoco non gli permettevi di uscire quindi hanno creato una messa in scena la stessa cosa la polizia l'ha fatta anche in diversi quartieri di Istanbul a Kadiköy, Besiktas, ad Ankara nei giorni successivi c'è stata una manifestazione di massa anche lì la polizia ha risposto con violenza e poi cosa succedeva il il rettore in qualche maniera per fare per farsi un'immagine un po più simpatica rispondeva alle domande dei giornalisti in diretta oppure andava in studio a partecipare alle trasmissioni e una sua dichiarazione forse quelle che ha acceso un'altra un'altra fiamma in realtà è molto interessante significativa e non è un dettaglio è molto molto particolare il professore in diretta televisione dice io credo che le elezioni siano uno strumento importante per dirigere un paese ma non sono la democrazia e il sistema elettorale non sono degli strumenti importanti per dirigere un'azienda oppure per eleggere il rettore di un'università quindi stiamo parlando di un sistema ossia il presidente repubblica che nomina il rettore ereditato dai golpisti del 2000 del 1980 e oggi nel 2021 esiste un rettore nominato dal presidente repubblica che non riconosce il sistema elettorale oppure la cultura democratica come un elemento necessario da applicare in un contesto accademico come quelle dell'università in effetti quando gli si è chiesto gli si è stata chiesto ma lei vorrebbe dimettersi lui ha detto io non sono stato eletto e quindi non posso dimettermi che vuol dire il presidente repubblica che mi deve sospendere quindi questo quadro qua all'interno della sua diciamo brutalità è funzionante perché le leggi sono così ma ovviamente stiamo parlando di un di un quadro di un funzionamento non è che non è legittimo e questa è stata la terza rivendicazione degli studenti quindi dimissioni del rettore l'immediato interruzione della polizia quindi la libertà di manifestazione e riforme necessarie per ripristinare l'autonomia delle università e riforme necessarie per restituire la dignità al sistema elettorale delle università come succedeva prima del 1980 quindi oggi in realtà gli studenti pretendono un cambiamento grosso sono utilizzando un termine che non mi piace molto perché ha un profilo militarista però sono d'avanguardia proprio sono pretendono una cosa molto interessante stiamo parlando dei ragazzi che hanno 20 22 23 anni è molto interessante il movimento ha un profilo molto interessante forse anche per questo fatto nel mentre in questi 40 giorni le manifestazioni si sono sparsi in tutta la turchia solo secondo i numeri del ministero dell'interno che spesso volontario come sappiamo sono numeri manipolati oppure parziali in 38 città si sono svolte manifestazioni in turchia ci sono 81 città quindi quasi la metà del paese ha partecipato certo la turchia è composta da 85 milioni non 40 milioni sono scese in piazza però ogni c in ogni città un gruppo un gruppone comunque qualcuno si è organizzato ha 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 deciso di appunto tirare su dei presidi manifestazioni più di 600 persone sono state prese in detenzione provvisoria più di 200 sono ancora in diversi commissori commissariati per 11 persone e gli arresti sono stati confermati quindi sono stati distribuiti in diversi centri penitenziari più di 30 studenti sono ai domiciliari in turchia esiste la cavigliera elettronica una sorta di manetta e quindi vi installano una sorta di router modem a casa e voi non dovete non potete uscire fuori dalla casa quindi e poi per alcuni l'obbligo di firma e addirittura in alcuni casi c'è la cavigliera elettronica con l'obbligo di firma quindi c'è uno non può uscire di casa ma deve andare firmare ogni sera quindi ci sono anche queste queste buffonate e questa è la situazione attuale e le proteste sono diventate sono diventate trasversali i sindacati hanno partecipato in alcuni casi ai presidi oppure diverse associazioni diverse organizzazioni non governative associazioni degli avvocati hanno partecipato alle manifestazioni sono andati a trovare gli studenti in questura oppure davanti al palazzo della giustizia questa posso dire che so che è stata abbastanza lunga ma credo che sia una risposta adeguata alla tua prima domanda grazie grazie mille per la risposta penso che sì ci hai chiarito un po' la situazione e ecco hai detto che eh comunque la la risposta istituzionale diciamo eh anche di dichiarazioni che che vanno nell'ordine di eh additare gli studenti come terroristi e serpenti da schiacciare o le abbiamo letto delle cose eh veramente pesanti se dette da eh quelle che dovrebbero essere i garanti della democrazia ma poi ce lo sappiamo bene che non è così e e invece ci volevamo chiedere cosa fanno ehm cosa fanno cioè cosa mh di fronte a queste violenze a queste discriminazioni a queste cose pesanti pesantissime che sono state dette anche eh e soprattutto rispetto alla comunità LGBT eh che sono stati definiti eh deviati pervertiti e e quant'altro e che eh cosa ehm qual è la risposta prima la risposta diciamo eh un po' più istituzionale dello dei partiti di opposizione eh a quello di Erdogan e e poi quali sono le le risposte delle piazze rispetto a queste a queste affermazioni. Allora eh raccontiamo un attimo perché le persone LGBT sono state chiamate in causa senz'altro stiamo di fronte a un disegno politico economico estremamente sessista omotransfobico. Questo è un fatto che è stato confermato in in questi ultimi venti anni eh di di saccheggio che 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 ha fatto questo governo in Turchia. Ehm il la seconda ondata di arresti e violenza è partita nei primi giorni di febbraio quindi una quindicina di giorni fa circa ma anche meno. Cosa succede? Il ministro degli interni e attraverso il suo canale il suo account ufficiale su Twitter pubblica la foto di un luogo sacro dell'Islam si chiama Kaba più o meno la prima moschea assoluta che si trova in in Arabia Saudita. La foto ehm cioè il foto divulga la foto di un'illustrazione dove c'è questo luogo sacro e in un angolo si vede la bandiera arcobaleno con la bandiera meravigliosa. A destra invece si vede la la bandiera del movimento trans. Ok? Quindi questi due elementi appiccicati su questa illustrazione che è stata trovata per terra all'interno del campus. Perché? Perché gli studenti con l'obiettivo di portare avanti le proteste in ogni modo proteste colorate creative ma sempre senza violenza hanno anche pensato di fare una mostra artistica e in pochissimi giorni hanno ricevuto più di trecento illustrazioni disegni eh quadri eccetera hanno fatto una piccola mostra piccola insomma abbastanza grande dentro il campus dentro gli uffici riservati agli studenti ai gruppi universitari il tema è la libertà accademica e libertà di espressione i quadri mandati anche dall'estero eccetera quindi una bella risposta politica artistica. In tutto questo ovviamente mostra c'era anche questa illustrazione. Il ministro delle degli interni ha pubblicato questa foto dice accusando gli studenti di non rispettare i valori religiosi ovviamente intende una religione unica no? Eh parla di una religione unica e accusato eh gli studenti di essere mh dei pervertiti anzi queste e queste persone LGBT perverse no? Erano le sue parole esatte e quindi ha invitato la polizia il giorno dopo di intervenire. La polizia ha obbedito certo la polizia è sua il ministro degli interni. La polizia ha fatto un'irruzione dentro uno degli uffici riservati al gruppo LGBT dell'università diciamo e ha raccolto le bandiere arcobaleno, le bandiere trans oppure gli striscioni oppure alcuni quadri come se fossero delle prove di un reato no? E ha sigillato le porte dell'ufficio e ha portato anche qualche ragazzo, qualche ragazza in questura e quindi eh la la crociata no? Utili per utilizzare un termine religioso a posto adeguato in questo momento la crociata è stata conclusa eh con successo. Il presidente del direttorato degli affari religiosi si è espresso difendendo i valori religiosi per non parlare di altri amministratori locali parlamentari sempre vicini al governo come come hanno come hanno risposto. Ovviamente di nuovo è partito un linciaggio mediatico e ecco gli studenti non hanno non ce l'hanno soltanto con il rettore, questi sono pervertiti, hanno nella testa l'obiettivo di offendere i valori dell'islam eccetera e quindi tutta una bella insalata russa di nuovo per legittimare la violenza, la repressione nei confronti degli studenti. Ovviamente in tutto questo le persone LGBT sono state definite come dei delle persone bruttissime, terribili e sono accesi dibattiti spontanei o preorganizzati presso i canali televisivi fondamentalisti in cui definivano le persone LGBT come delle delle persone malate, perverse, che non fanno parte della cultura turca eccetera. Il Presidente della Repubblica prende la parola e dice che loro in Turchia non esistono, non fanno parte del codice culturale, storico, tradizionale turco eccetera eccetera. Addirittura queste lesbiche non possono diventare delle mamme anche c'è questa uscita sua. Perché vabbè stiamo parlando di una cultura che percepisce la donna come soltanto quello che partorisce in continuazione dei bambini. E quindi le persone LGBT sono finite di nuovo nel mirino di questo di questo governo sessista omotransfobico e per fortuna la risposta è stata molto propositiva da parte delle delle associazioni non governative, dei collettivi informali sia del movimento LGBT sia di diversi movimenti. E quindi sono aumentate le bandiere arcobaleno, le bandiere trans e c'è stato fatto un piccolo pride all'interno del campus che è poi uscito e è andato verso il molo di Kadkoy che è un municipio enorme che fa più di un milione di abitanti. Immaginate la città di Istam fa 17 milioni quindi quando si muovono non si muovono quattro persone, vengono fuori della manifestazione veramente di massa spontaneamente anche così. E poi non vi dico quanti appelli, quante quante dichiarazioni, quante lettere aperte che condannavano appunto l'omotransfobia del governo. Twitter ha bloccato i messaggi, i tweet del ministro e degli interni ma anche del del presidente del partito del movimento nazionalista che è l'alleato numero uno di Erdogan che anche questo presidente si era pronunciato utilizzando termini omotransfobici e quindi e poi l'ONU il se non mi sbaglio l'ufficio non mi ricordo il nome esattamente ma uno degli organi dell'ONU ha condannato la violenza della polizia anche le dichiarazioni omotransfobiche di alti esponenti del governo. Le piazze comunque si sono riempite di queste associazioni, associazioni LGBT ma anche delle bandiere e quindi la rivendicazione sono diventate quattro interruzione immediato del linguaggio omotransfobico e la condanna e la criminalizzazione delle persone LGBT e quindi questa è stata in realtà come vedete ogni volta che il governo cercava o pensava di colpire, insultare, ferire, reprimere il movimento dal basso questi giovanissimi studenti insieme ai professori ma anche insieme a una parte dell'associato civile rispondevano con delle proposte, con delle rivendicazioni, quindi è stata la reazione è stata molto tra virgolette propositiva. Ottimo grazie mille questa risposta è veramente molto interessante e tu hai detto prima che nella prima risposta che ci hai dato che i ragazzi hanno 22 23 anni quindi quando nel 2013 quando avvenivano le proteste a Ghezzi Park ne avranno avuti 15, 14, magari c'erano, magari non c'erano, da questo appunto volevo chiederti quali sono le analogie che ci sono con le proteste di Ghezzi, cosa ha lasciato Ghezzi in queste proteste, se c'è un rimando oppure se ci sono delle differenze che tu noti, quello che ti viene, grazie. Guarda, io sono il coautore di un libro, forse l'unico in italiano, scritto in modo completo sulla rivolta del Parco Ghezzi del 2013 e in tutti questi anni, in questi ultimi otto anni, mi si è sempre chiesto, mi è stato sempre fatto questa domanda, ma cosa è rimasto di Ghezzi? Io quelle che dicevo in continuazione, è vero che la rivolta è stata massiccia, la rivolta popolare più grande della storia della Repubblica di Turchia, orizzontale, trasversale, che è partita dal basso, è stata assolutamente repressa, durante quella rivolta che ha avuto una durata di quattro e cinque mesi, il paese forse ha perso i suoi nove giovani illuminati, sono stati uccisi da parte della polizia e pure da altri, da altri farabutti, da altri paramilitari quasi. Tante persone sono state arrestate, ancora oggi ci sono dei maxiprocessi su Ghezzi e 19 persone sono rimaste con un occhio, hanno perso un occhio perché sono state colpite dai lacrimogeni emozioni di plastica e parecchi hanno dovuto lasciare il paese perché non volevano rischiare la galera, ma è rimasta una cosa che è la memoria, nella testa delle persone è rimasta questa memoria qua, che noi se ci organizziamo, se lo vogliamo fare, possiamo veramente provare a cambiare il paradigma, possiamo veramente provare a mettere il bastone tra le ruote di questo sistema, di questo disegno politico economico perverso che strozza il paese da più di venti anni, questo sistema similfascista e mafioso. Ghezzi l'ha dimostrato e per fare questo milioni di persone hanno messo in rischio la loro vita, hanno rischiato la vita, giorno, notte, utilizzando gli strumenti poverissimi che avevano a disposizione di fronte ai blindati, idranti, lacrimogeni, manganelli, scudi, caschi, calci, di fronte a un governo che aveva una maggioranza assoluta, aveva pigliato quasi 50% dei voti e quindi aveva anche una tra virgolette legittimità elettorale. Ma la società civile non ci ha visto, non ha visto nel parco Ghezzi, ha detto no, io voglio vivere in un'altra Turchia, in un'altra maniera e per questa posso anche rischiare la mia vita. Questo secondo me è un atto coraggioso, non da pazzi, proprio è una grande dimostrazione di coraggio, è una grande dimostrazione di amore che hanno le persone per il loro paese, per il futuro e per le future generazioni. Forse i ragazzi di oggi che stanno scendendo in piazza, che adesso hanno 22-23 anni, che all'epoca otto anni fa avevano 12-13 anni, forse hanno visto che qualcuno lottava, rischiava la vita per garantire un futuro diverso a loro e oggi forse loro stanno cercando di fare la stessa cosa. Io le persone che ho intervistato per gli articoli che scrivo in questo periodo, nelle interviste ho sempre sentito l'amarezza e anche tristezza perché questi ragazzi ogni giorno rischiano i manganelli, l'arresto eccetera, anche un po' di rabbia nei confronti del paese dove dicono che non vorrebbero vivere, ma continuano a scendere in piazza e dicono noi non molleremo fino a quando queste nostre rivendicazioni non saranno accettate. Questa determinazione attuale che stiamo analizzando è uguale a quella determinazione del 2013. Anche il punto di partenza e come sono andate le cose possiamo dire che sono uguali. La resistenza del Parco Gesì in teoria, in teoria sulla carta, è partita per salvaguardare quattro alberi che sono rimasti nell'ultimo parco nel cuore storico di Istanbul, ma non è possibile che per quattro alberi, per quattro mesi, siano scese in piazza più di dieci milioni di persone. Non è possibile, per questo possiamo dire tranquillamente le rivendicazioni erano tantissime, le richieste erano tantissime, le persone, ognuno aveva un motivo valido per scendere in piazza e rischiare la vita, sottolineiamo. Oggi vedete che ho fatto appena la carrellata, riassunto, il punto di partenza era richiedere le dimissioni del rettore e oggi siamo arrivati a una piattaforma molto più ricca e siamo arrivati che in più di 35 città le persone scendono in piazza. Quindi sono due movimenti, che si assomigliano molto. Perché? Perché in questi otto anni in Turchia niente è andato verso il meglio, è andato tutto peggiorandosi. Io sto parlando di fronte a una realtà che ha un profilo politico netto chiaro, voi siete abbastanza informati, credo, in merito a quello che è successo in Turchia in questi ultimi otto anni. L'occupazione militare oltre confine, la repressione nei confronti dei giornalisti, avvocati, professori, l'omotransfobia in crescita, i femminicidi. Con i femminicidi la Turchia è uno dei paesi peggiori del mondo, quindi si è stabilita e cresciuta una cultura sessista molto forte. Il saccheggio totale, privatizzazioni sfrenate, la distruzione dell'ambiente, la costruzione di ogni possibile centrali idroelettriche, centrali nucleari, è un aumento pazzesco delle spese militari. Una disoccupazione che cresce, è un'inflazione sfrenata, la vita è carissima, ogni settimana c'è qualcuno che si suicida per via della disoccupazione, a volte anche intere famiglie, e non è cambiato quasi niente nel bene, ma nel male sì, peggio ancora. E quindi dopo otto anni forse è arrivato di nuovo il momento di una manifestazione, di un movimento di massa. Queste sono assomiglianze. Io poi, questa è la mia analisi politica, poi se andiamo dall'altra parte, sentiamo un attimo cosa hanno detto in questi giorni i governatori, la mia analisi credo che sia confermata, perché già al quarto giorno delle manifestazioni il Presidente della Repubblica, ma non soltanto, gli altri esponenti del governo hanno detto, dal loro punto di vista, non permetteremo a nessuno di rifare la stessa cosa che hanno fatto durante le manifestazioni del Parco Ghesi. Quindi loro non hanno dimenticato quelle che è successo nel 2013, probabilmente hanno dei grossi incubi ogni sera, perché hanno visto che la poltrona tremava. Adesso probabilmente continuano a tremare anche le loro gambe. Se i manifestanti, la società civile, in qualche maniera non hanno dimenticato quello che è successo, hanno nel loro cuore e nella loro testa la memoria di questa spettacolare resistenza, possiamo dire che dall'altra parte anche i governatori, che sono sempre le stesse persone, continuano a essere le stesse persone in questi anni, e anche loro non hanno dimenticato. Per loro è un incubo, per noi è un bellissimo ricordo. Grazie, grazie mille. No, scusa, grazie, grazie, abbiamo, ok, perfetto. Io ti faccio un'ultima domanda, poi se hai tempo magari apriamo se c'è qualche domanda o qualcuno che ti vuole chiedere qualcosa. E questa domanda in realtà è un po', cioè interessava un po' di più a me, ma perché sostanzialmente come attivisti italiani anche, magari volevo capire quali sono le cose su cui premere sostanzialmente, non so come dire, per organizzare anche da qui un tipo di solidarietà che può essere utile lì. E quindi quali sono attualmente i rapporti e gli accordi internazionali che legano l'Italia e l'Europa con la Turchia? Guarda, come reazione e risposta, senz'altro siamo in una situazione molto trista adesso in Italia. Non esiste quasi nessuna università che ha espresso la sua solidarietà con gli universitari in Turchia. soltanto, per quanto so io, a Firenze è un'università internazionale, ha pubblicato immediatamente un brevissimo comunicato stampa e per quello che so io, che bene o male riesco a fare un lavoro di monitoraggio molto capillare ogni giorno, ma forse mi è scappato qualcosa, le università importanti, famose, italiane, stanno mantenendo un silenzio imbarazzante. Come se in Turchia non stesse succedendo niente. Come se centinaia di professori in diverse università non scendessero ogni giorno in piazza per protestare. Come se all'Università di Boasici più di 130 professori ogni giorno non scendessero sul prato del campus e non svoltassero le loro spalle al rettore e non vuole essere in continuazione le sue dimissioni. Questo per me è inaccettabile che sia una situazione da ignorare qua in Italia. Per non parlare della violenza della polizia nei confronti dei manifestanti che cercavano di praticare il loro diritto garantito dalla Costituzione. Contro questo, nei confronti di quello che sta succedendo in Turchia, c'è un silenzio imbarazzante, soprattutto nel mondo accademico italiano, è inaccettabile. Come era esattamente inaccettabile nel 2003, nel 2004, il silenzio totale del giornalismo italiano, mentre invece la Turchia contava 63 giornalisti in carcere, che dopo la Cina 2003, quindi 18 anni fa, dopo la Cina era il secondo paese nel mondo a avere più giornalisti in carcere. Nel 2004 c'erano 156 avvocati in carcere in Turchia. Siamo passati anni, ci è voluto la morte di un'avvocatessa, nel 2020 in Italia le associazioni legali e gli albi si sono pronunciati. Questo è un silenzio imbarazzante che ha diverse motivazioni legate alla disorganizzazione, alla cultura, alla mancanza di una cultura politica, eccetera. Però dall'altra parte ci sono anche delle realtà più codarde, senz'altro, e il legame economico sfrenato tra Italia e Turchia. Ricordiamoci che la Turchia è il paese membro della Nato che compra più armi dall'Italia. Quindi l'Italia non vende agli Stati Uniti d'America, non alla Spagna, non alla Francia, non alla Germania abbastanza armi, ma vende prima di tutto come alleato della Nato alla Turchia. In primi se non mi sballe Yemen, poi Arabia Saudita, poi a terza posizione c'è la Turchia. Quindi un rapporto militare incredibile, un rapporto economico anche in altri termini incredibili, dalla Ferrero fino alla Staldi, dalla Sisal fino ad altre realtà. L'Italia è molto presente in Turchia, spesso e volentieri la sua presenza molto discutibile, una presenza in certi casi anche a livello commerciale non legittima. Analizziamo soltanto due casi. La Ferrero, cioè la Turchia produce quasi il 70% del fabbisogno internazionale mondiale delle nocciole. La Ferrero compra quasi tutta la sua necessità dalla Turchia e in questi ultimi anni è diventato il monopolio in Turchia, distruggendo il mercato, pagando pochissimo, chiudendo le fabbriche, produttori locali. Ogni anno ci sono delle manifestazioni dei contadini, ci sono dei sindacati dei contadini che continuano a lamentarsi per via del fatto che la Ferrero stia distruggendo il mercato in Turchia. Oppure la Staldi, che è un'azienda italiana che è famosa con la costruzione delle infrastrutture, che ha costruito insieme ad un'altra azienda il Terzo Ponte sul Bosforo, che è un crimine assoluto, una struttura inutile, costosa, che ha distrutto l'ambiente, ha distrutto la viabilità, non è utilizzata e poche persone utilizzano, il pedaggio costosissimo e la Staldi ha dichiarato un anno fa il fallimento presso un tribunale commerciale a Roma e tra le motivazioni, se leggete le carte, scoprite che è presente anche, si vede anche la sua impresa in Turchia, perché è stata anche per la Staldi economicamente un'impresa fallita. I danni dell'azienda, secondo il contratto, devono essere recuperati dalle tasche dello Stato. Quindi questi sono ovviamente vincoli, per me non giustificano ovviamente il silenzio del mondo accademico italiano attuale, ok? Però questi sono rapporti molto discutibili, molto forti in un certo senso, che forse fanno, sono delle barriere perché alcune persone oppure alcune realtà si sentono frenate, no? Non alziamo la voce contro la Turchia perché è un mercato, come se non fosse un paese pieno di persone, degli esseri umani, ma è un mercato, no? Quindi i suoi cittadini sono dei consumatori, non sono degli esseri umani, sono possessori di carte di credito. Esattamente come l'accordo che è stato firmato tra alcuni paesi europei e la Turchia in merito alla gestione, tra virgolette, dei rifugiati, che è un accordo totalmente codardo, è un accordo totalmente egoista, egoistico, è un accordo che si basa sulla cultura di reciproco ricatto. L'Europa in qualche maniera, utilizzando il termine sbagliato, alcuni paesi europei ricattano la Turchia perché devono dare dei soldi, poi questi soldi li hanno già dati tra l'altro, e la Turchia ricatta Ancara, diciamo, il governo centrale ricatta i paesi firmatari europei e molto banalmente anche letteralmente dicendo datemi più soldi se no apro le porte. Come avete visto poco prima dell'inizio della pandemia sono ammassate più di 5-6 mila persone al confine greco-bulgaro, quindi Ancara ha voluto farlo, l'ha fatto. E ovviamente gli interventi militari in Siria e in Libia della Turchia non possono essere fermati perché abbiamo questo legame perverso con la Turchia attraverso questo accordo di grande egoismo. Un'Europa che non vuole produrre soluzione per la sua crisi economica e vuole tenere il suo giardino bianco, pulito, non pieno di neri, arabi, musulmani, e cerca di creare un rapporto appunto perverso con la Turchia e non riconosce gli interventi di Ancara come azioni di occupazione sul territorio siriano. Questi sono elementi senz'altro autodistruttivi che l'Europa, una parte dell'Europa ha costruito in questi anni per farsi ricattare da Ancara. Grazie davvero, grazie. È stato tutto molto interessante per me. C'è qualcuno che vuole fare una domanda, Murat? Sei stato molto chiaro e molto ampio, quindi magari ce le segniamo e te le mandiamo e ci rincontriamo e ci vediamo a Sherwood e ci vediamo presto, spero. Io ti ringrazio tantissimo davvero perché è stato molto interessante. Grazie mille. Grazie, buona serata. Ciao, ciao.